VITALI VITALI Vieni, Luisa Hai sentito che cosa hanno detto la tv questa mattina? Sì, ho sentito E tu cosa farai? Luisa, cosa c'è da fare? Non ho ancora avuto il tempo di pensarci Insomma, è una notizia più grande di me, di noi Però, guarda, visto che me lo chiedi Sai cosa credo che farò? Continuerò a lavorare Fino all'ultimo giorno Come se non fosse l'ultimo Come se ci fosse ancora un giorno dopo E un altro ancora E poi quello che sarà, sarà In fondo Molto spesso ho avuto più paura della vita Che della morte Abbraccia il mio papà, Arturo Lo farò Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti